Eccoci con lo sportello del cittadino, siamo a Lama in via San Domenico e vogliamo mostrarvi l'ennesima discarica a cielo aperto. Certamente c'è l'inciviltà dei cittadini, di questi sporcaccioni, però c'è anche l'inerzia assoluta da parte dell'amministrazione comunale, precisamente dell'AMIU. Siamo con un abitante della zona. Lei è il signor? Paolo Bettella. Ecco, signor Bettella, il quadro è veramente penoso? Non è solo penoso, è uno schifo. Oramai più che fare dei commenti basta osservare le immagini e credo che non ci siano parole per definire uno sconcio così talmente evidente. Qui ci troviamo all'ingresso di un'area privata assolutamente abbandonata a se stessa. Il piano stradale fa schifo, poi non ne parliamo di tutti i servizi. E quindi giustamente, provocatoriamente, sono stati messi dei cartelli, AMIU dove sei, niente turismo, noi cittadini paghiamo le tasse, sporcaccioni, insomma. Sì, è chiaro che il minimo, questo per mantenersi nell'ambito dell'educazione, perché gli aggettivi dovrebbero essere decisamente più pesanti. L'AMIU qui non viene a pulire e siamo sul ciglio della strada, ma spostiamoci e vi facciamo vedere cosa c'è davanti ad un'abitazione privata. Una cosa assurda, una struttura privata abbandonata è abbandonati sacchetti, cumuli e cumuli di rifiuti, sacchetti neri di plastica con tutto il materiale, ivi compreso. E quindi soprattutto fogliame e materiale, insomma, derivante dalla potatura del verde. Delle due l'una, o intervengono i privati e tolgono questa schifezza, oppure interviene l'amministrazione comunale con l'ordinanza in danno. Svegliatevi amministratori!